venerdì 18 dicembre al teatro casone di ortovero prender via la rassegna musica e teatro con un grande spettacolo il mondo di john la storia di john lennon raccontata in prima persona da un grande grandissimo artista che vi narrerà la sua vita che canterà le sue canzoni vi racconterà dei simpatici aneddoti che pochi conoscono mi raccomando venerdì 18 dicembre ore 21 teatro casone ortovero non mancate perché questo grande artista